migliorare così le prestazioni e smettere di laggare sui giochi sull'emulatore rpcs 3 ovviamente queste sono le impostazioni adatte che ho aggiunto per non avere problemi di lag ovviamente qua anche parliamo di un gioco come god of war 3 che sto avendo anche difficoltà a farlo girare anche su un computer che mi regge proprio god of war ragnarok con più di 100 fps con una scatagrafica 30 e 70 eccolo qua visto che volevo provare il terzo laggavo quindi iniziamo prima ad andare su configurazione vai su system vai su cpu e inizia così ad aggiungere queste impostazioni che ho messo io e sui trials del processore ovviamente dipende anche dal processore che ha e quanti trials ne ha quindi ovviamente ne metto 6 e faccio applica sulla scheda grafica invece renderizziamo così con la scheda grafica rtx ovviamente metto la mia 30 e 70 qua sopra frame limitati shader qualità mettono questo qua invece metto fast e faccio applica per la risoluzione ovviamente ci raccomandano un 720 non possiamo mettere un 4k se no qua potrebbe succedere veramente qualcosa di dannoso al nostro sistema quindi ti consiglio di tenerlo su 1280 x 720 ho provato a metterlo in full hd e non lo so cosa stava succedendo 2 3 fps non capisco il problema comunque tienilo su 720 su risoluzione in scala metti 1024 16 per 16 e basta e fai applica qua invece metti la terza opzione qua invece al posto di bloccare gli fps perché bloccavo anche gli fps ho messo l'ultima riguardo alla texture streaming ho messo l'ultima opzione audio invece lo tengo così l'ultima opzione audio qubapp qubapp l'ultima opzione audio stop limite scendi così la lingua network avanzato owany emulatore scrith software queste tutte le opzioni che ho aggiunto e basta questo era per farlo sull'emulatore rpcs3 invece se vuoi una configurazione separata quindi su ogni gioco basta che clicchi sul gioco tasto destro sopra e fai custom configuration global e qua puoi personalizzare così le impostazioni sul gioco come puoi vedere sul gioco su emulatore qui ho messo top left e ho cominciato poi a configurare le impostazioni qua sotto frame rate data points 219 una volta fatto vai direttamente su configurazione di sistema opzioni di avvio opzioni avanzate numero di processori che usa ne ho messi 12 quindi applica 12 fai ok fai applica e poi devi riavviare il sistema e ora non mi resta che avviare il gioco mentre le prestazioni che sto usando sono queste vado sui 20 fps ma si vede anche molto bene quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao